Calcio Pazzo è il canale YouTube che cercavate Per chi vi racconta Volo cazzato Perché l'altro invece Scusate io mi permetto di dissentire Cioè noi diamo le notizie fresche di giornata Quindi notizie reali Soltanto che le diamo un po' condite Un po' divertenti Cioè un po' goliardiche Altrimenti sai che due coglioni Dai e sverti Andate a mettere mi piace su Calcio Pazzo su YouTube Dai dateci un click Non ci fate perdere tempo Noi qui stiamo a lavorare Dai mica sto mappettino alle bambole Su dai